Buongiorno, dice che dobbiamo dire quale libro ci ha liberati, inizia, una biblioteca di liberazione come faccio, sono stata bisognosa di liberazione così tante volte nella vita che se avessi un libro solo non basterebbe a dirlo quindi ci sono momenti in cui ti apre la gabbia il libro che meno ti aspetti di tutti ho sempre di fidenza delle persone che fanno gerarchia tra i libri e distinguono letteratura alta da letteratura bassa distinguono cose di cui vantarsi alle cene, letture innominabili che dovrebbero distruggere il tuo profilo intellettuale se le dichiari da questo punto di vista ci sono stati momenti in cui mi ha liberato la Bibbia e in momenti in cui mi ha liberato Topolino quindi direi che proprio l'atto di leggere è un atto liberatorio Chiara Valerio dice sempre che il lettore, la lettrice sono persone libere perché non necessitano di essere intrattenute a differenza di un telespettatore, senza demonizzare altri strumenti però la lettura è proprio una cosa che fai da solo, fai da sola è una cosa, nessuno controlla il tuo divertimento nel senso proprio nessuno controlla dove il tuo sguardo si sposta nel vero senso etimologico del termine, divertere se dovessi dirlo però sì, sicuramente la Bibbia la Bibbia che nei secoli ha imprigionato un sacco di gente anche in nome della Bibbia si sono fatte delle cose terribili nel mio caso devo dire che mi ha resa una persona più femminista più comunista e più credente più fiduciosa nel fatto che esista un ordine che va oltre me che non sono io l'unica misura di me stessa si può dire così no sai io non non sono riuscito a scegliere per davvero poi quando me l'ha chiesto più libri più liberi ho dovuto identificare un libro perché condivido con Michela dipende da quello che lungo il percorso trovi dall'ostacolo, dalla necessità di essere salvato tirato su mentre stai annegando mi è capitato di trovare in delle pagine inaspettate per questo ho scelto questo libro siamo a naufragi di un autore dal nome bizzarro Cavesa de Vaca cioè testa di vacca che era in realtà un un coquistadores quindi la feccia per colpa tua me lo sono andata a cercare non avevo idea di chi fosse ma ti ho detto se lo consigli a Robi deve essere una roba che vale la pena leggere va veramente fighissimo immaginate quest'uomo adesso vi lascerò se vi andrà poi di leggerlo ma immaginate questo conquistadores che va dall'altra parte del mondo perché vuole saccheggiare saccheggiare proprio oro pappagalli animali donne uomini da schiavizzare ma arriva in Florida naufragio terribile sopravvivono in pochissimi pochissimi significa ovviamente 4-5 vengono accolti dalla comunità vengono accolti dalla seminole e iniziano a vivere nudi e c'è lascio per ora solo questa immagine anni dopo l'incontro che fanno con gli spagnoli andati in Messico il dolore che loro hanno nel doversi rivestire e Cavesa de Vaca scrive non è vero che si può vivere soltanto come viviamo noi e non è vero che questo mondo è un mondo di selvaggi da conquistare cioè si accorge che esiste un altro mondo e si accorge che quest'altro mondo era costruito in maniera impensabile per uno spagnolo di quell'epoca e soffre nel pensare che quella vita gli ormai sottratta perché deve tornare dai suoi e quando torna in Spagna ormai con una fatica di vestire in qualche modo cade in malinconia e il libro è la testimonianza di un'altra scoperta cioè quella che ha fatto lui personalmente e di un mondo che poi sarebbe stato appestato il titolo di questo incontro è Siamo ancora vivi per la circostanza io mi sono messa una maglietta a coccia di morto diciamo di zero calcare così a titolo scaramantico spero siate venuti tutti ravanandovi le partite perché questa cosa un po' stanotte ho pensato alle 4 ore sveglia perché ero un po' tesa e pensavo pensa se muoio stanotte se muoio stanotte domani c'è un incontro che si intitola Siamo ancora vivi rideranno per mesi Naturalmente il titolo dell'incontro è ispirato al libro biografico illustrato sulla vita di Roberto edito da Bao che ha questa copertina potentissima che in realtà ti dice che c'è un mezzo sommerso un mezzo salvato in quella storia ti dice che che anche che i sopravvissuti non sono degli indenni ti dice e che sopravvivere vuol dire portare per sempre addosso la battaglia ora non mi piace tanto la categoria del sopravvissuto anche se dopo questi due anni credo che interessi tutti cioè siamo tutti dei sopravvissuti dal 2020 in poi non penso che nessuno possa esimersi da questa da questa definizione e la categoria del del sopravvissuto è l'opposto di quella della vittima e siccome una delle accuse che fanno a chi dichiara una ferita è di fare la vittima io rifletterei un attimo su questo concetto di vittima se hai voglia è una questione di prospettiva prima mentre eravamo nel retropalco ascoltavamo il video lui mi ha detto questo quando l'hanno messo in carcere ha preteso di essere fotografato mentre sorrideva e io gli ho detto c'è una frase di Emilio Lussu che sempre mi colpisce che quando gli dicono beh tu sei stato perseguitato dal fascismo Emilio Lussu diceva no io ho perseguitato il fascismo ed è per questo che il fascismo ha avuto paura di me e mi ha risposto con violenza quindi il ribaltamento di prospettiva il fatto che appunto la vittima è tale dipende da come la guardi e questo è interessante ragioniamoci non l'abbiamo mai fatto in pubblico c'è un momento in cui la parola vittima è una parola sacra vittima che ha pagato un prezzo e immediatamente dopo c'è un momento in cui la parola vittima è il termine più feroce per schernirti non fare la vittima che sottintende non sei vittima siccome è molto complesso poter dire soprattutto in pubblico ma dai non ti è successo niente allora si dice non fare la vittima cioè sappi che tu non hai il titolo per poter essere vittima e sono particolarmente contento di dividere questo spazio con Michela perché negli anni questi anni sono stati veramente duri per chiunque abbia deciso di prendere posizione ci sono autori artisti che possono operare nella loro attività creando senza mai prendere posizione e dicendosi in maniera del tutto legittima è la mia opera che parla io l'ho sempre considerato una paraculata ma è soltanto un punto di vista soggettivo dire no ma io parlo con le canzoni io parlo con i miei libri non devo prendere posizione su quello che sta succedendo nel Mediterraneo non mi importa se qualcuno viene processato perché? perché voi sapete io chi sono no? sapete come la penso basta trovarmi nelle pagine sento che è un discorso legittimo e sento che legittimamente io possa considerarlo da paraculo cioè salvarsi in qualche modo dalla scelta che porta innanzitutto alla colite all'insonnia al mal di testa all'essere malmestosi alla solitudine questo significa scegliere significa innanzitutto questo oggi molto più di ieri io ho avuto la strana fortuna allo strano privilegio di vivere la fase per esempio quando c'era il governo Berlusconi in cui prendere posizione intendo contro Berlusconi non portava solitudine portava conseguenze ma non solitudine tra le conseguenze oggi è esattamente il contrario tantissima solitudine e tantissima diffidenza perché vince un principio è che è quello che smonta la vittima e cioè se ne parli se prendi tipo se siete qua su quel palco ne avete profitto e vantaggio quindi siete inautentici quindi quello che voi state dicendo ha molto meno valore perché se foste davvero in una situazione di difficoltà e di vittima non esistereste sareste invisibili sareste nel numero di coloro che patiscono e quindi vanno rispettati e qui volevo arrivare ecco il punto magico è importante coglierlo provate a prendere posizione sulla migrazione sui migranti cosa vi diranno ah tu sei c'è i soldi portateli a casa tua che c'entri tu perché perché quello che vogliono far passare attaccandoti è il pericolosissimo ragionamento per cui nel momento in cui qualcuno si sta occupando di un dramma di un'ingiustizia a un atto solidale non ne può parlare se non è lui il primo protagonista e siccome i protagonisti di cui stiamo parlando in questo caso non hanno voce non hanno voce tu releghi al silenzio quella vicenda allora dicendoti stai zitto marchisio miliardario calciatore ti metti a parlare di immigrati guardate come è intuitivo effettivamente la persona ingenua che esiste ovviamente che ascolta questo ragionamento dirà effettivamente magari senza crudeltà effettivamente perché perché sanno benissimo sanno benissimo che quel mondo lì è un mondo senza voce e se tu provi ma ragionando non è che stai dando voi non ho la pretesi dare la voce a nessuno immediatamente c'è la diffidenza quindi diciamo il ragionamento sulla vittima e su quello che poi ho cercato di raccontare in queste pagine è quello di dire che non mi hanno lasciato vivo e non mi hanno dato il colpo di grazia sono esattamente in un territorio a metà esattamente in un territorio a metà e mi fermo per introdurre il discorso che spesso ho fatto in privato con Michela quando tu hai la certezza perché lo è stato all'inizio della mia vicenda che prima o poi finisce prima o poi ti fanno fuori io avevo 26 anni quando mi chiedono di fare testamento proprio 26 anni avevo 26 anni quando mi spostano continuamente da luogo in luogo e questa cosa invece di dare angoscia molto difficile dirlo ma siccome l'ho confessato in questo libro ho la forza per poterlo dire perché il fumetto ti dà credibilità forza le parole non bastano ho avuto bisogno di rendere le carne nel disegno questa cosa invece di metterti angoscia mi dà speranza perché dicevo vai tra tre anni è finita tra tre anni fanno fuori è finita ok si può fare quando vedevo che di anno in anno io riuscivo a spingerli perché non è che è stata una grazia loro c'è stata l'attenzione mediatica la strategia abbiamo spinti oltre e lì ti chiedi e ti dici cazzo ma allora questi mi lasciano così e adesso come si fa e come si campa così a metà spinto tra due forze immense una che dichiara è tutto una cazzata ma figurati se avessero voluto frase che ti perdono la sento almeno una volta al giorno da sedici anni se avessero voluto l'avrebbero fatto fuori e l'altra che ti ricorda visto che chi ti protegge è lo stato che ti ricorda che i processi ti ricorda che invece sei sempre nel mirino che stai sempre sei visto come il simbolo di quello che ha rotto i coglioni e tra queste forze sei schiacciato esattamente come in una morsa che ti impedisce di muoverti e in tutto questo ragionamento che hai fatto c'è un soggetto collettivo l'oro ed è un soggetto collettivo che però se uno conosce la tua storia fatica a identificare perché tu esordisci che sei un bersaglio della camorra quindi è evidente che è la criminalità organizzata il tuo antagonista all'inizio della vicenda se dovessimo trattare la tua storia come un plot appunto di un fumetto ma oggi non è più così netto quel l'oro oggi si potrebbe dire che tu sei un nemico politico di gente che tecnicamente non fa parte di associazioni di criminalità organizzata criminalità disorganizzata talvolta sì però ehm sì questo l'oro che cambia e paradossalmente passa dalla criminalità alla politica dice Roberto molte più cose di questo paese che non di te cioè nel momento in cui dentro quel l'oro cominciano a entrare figure istituzionali figure politiche capi di partito trasversalissimi perché tu non piaci a nessuno cioè non c'è una sinistra che ti non mi consta che ci siano capi di partito che ti trovano come dire decorativo nella loro cornice e per cui uno dice che paese è questo dove uno parte come un perseguitato alla criminalità organizzata e finisce a processo chiamato dai politici cioè capisci che c'è la storia dell'Italia in questo meccanismo e io ogni volta ci penso perché dico quelli sono quelli che dovrebbero difendere una figura come la tua come quella di chiunque e come come quella di chiunque usi quella che Henry De Luca chiama la parola contraria com'è che siamo finiti a doverci difendere dai politici più ancora che dai chamorristi sai che hai fatto una sintesi davvero incredibile in questo momento io sono sotto processo sia sono virgola orgogliosamente sotto processo sia per Salvini che Meloni credo di avere un record in questo senso ed è interessante perché questa trasformazione è dovuta innanzitutto a un loro terrore che è interessante davvero cioè esiste nel mondo conservatore una parte importante dell'oro elettorato che guardava al contrasto alle mafie con molta speranza molta energia quindi loro da sempre con loro intendo dire tutto il mondo che si riconosce nel centro-destra e nella destra radicale il tema antimafia lo guardava con interesse e con ansia perché sapevano che chi trattava a quei temi parlava anche ai loro parlava anche ai loro quando parli di diritti quando parli di immigrazione loro sono convinti i nostri non vi ascoltano quando parli di criminalità organizzata i nostri ascoltano quindi il rischio più grande è che questo possa risultare autorevole ai nostri questo accadeva già con Berlusconi e l'estrema destra l'estrema destra aveva preoccupazione di questo perché vedeva sui siti nelle loro comunità che c'era interesse che c'era interesse per questo tipo di riflessione per queste storie anche quindi il terrore se gli lasciamo presso i nostri una patente di credibilità quando lui poi ci attaccherà sarà ascoltato questa è la grande paura che continua a rimanere in loro oltre al fatto che se sei un osservatore di dinamiche criminali gli scopri anche le dinamiche interne ai loro partiti e non bisogna mai dimenticare che il sottosegretare all'economia del governo Berlusconi condelega alla spesa europea cioè di soldi che arrivavano dalla comunità era Nicola Cosentino l'uomo considerato la procura antimafia di Napoli ministro dei Casalesi era in un punto chiave chiave l'uomo che parlo dell'epoca berlusconiana sempre l'uomo che viene messo a gestire la commissione giustizia per riformarla Gaetano Pecorella era l'avvocato di Nunzio De Falco il camorrista che uccide Don Peppe Diano cioè è lunga la storia della complicità che nasce da mondi che ti portano voti che ti portano soldi che ti portano consenso quindi la paura principale era questo parla ai nostri no non va bene e quando a un certo punto tocchi i temi che sono a loro più congeniali cioè il tema della migrazione perché dico congeniali perché sentono di poter accorpare l'istinto più basso la scorciatoia più veloce difendere Gesù Bambino e difendere i sacri confini dagli invasori non devi più ragionare sul lavoro sul crimine sul riciclaggio sull'età non devi ragionare su niente puoi avere un consenso facilissimo facilissimo e a quel punto e a quel punto tu diventi bersaglio e diventi un bersaglio comodo perché devi spostare l'asse dello sguardo non più dalla questione chi salva chi non salva ma tu che ci guadagni ma tu chi sei , invece di parlare di coloro che stanno vivendo questa vicenda e di prendere quindi una posizione su questo sposti su chi racconta quella vicenda molto comodo e io appunto in questo fumetto in questa graphic novel con Asaf che la disegna sento che riesco in qualche misura a mostrare per la prima volta la ferita cioè questo tipo di posizione non è che ti lascia più forte quando ho detto prima orgogliosamente certo razionalmente sono orgoglioso di essere nel mirino di due figure così detestabili ma poi paghi un prezzo di isolamento di pressione di preoccupazione economico che devi pagare gli avvocati perché questi Salvini mi querela su carta intestata cosa che non succedeva dall'epoca del ventennio quando un ministro ti querelava negli anni 80 era su carta sua cioè Andreotti l'unica querela che ha fatto della sua vita la fa su carta intestata al suo nome Salvini lo fa con carta intestata Ministero degli Interni ed era questo il no ma è interessante perché era questo anche il suo indossare la divisa il suo indossare la divisa non era un omaggio alla polizia era se tu hai un problema con me hai un problema con la polizia ecco perché è pericolosissimo e non era indossare la divisa episodicamente tra l'altro una cosa che racconto anche nella graphic novel cioè non è quando dice beh però anche Lettala si è vestito così anche Obama si è vestito così anche Renzi si è vestito così il giorno in cui sono stati a Baghdad il giorno della festa delle forze armate cioè il giorno in cui tu celebri indossi perché sei questo teoricamente viene detto ovunque sei soldato tra i soldati in quel giorno ma se lo fai invece ai comizi se lo fai invece mentre stai distribuendo il cibo tra i tuoi elettori lì stai facendo una forzatura che una democrazia non può permettere cioè stai assumendo su di te un ruolo che invece è terzo e quindi mi stai suggerendo una suggestione pericolosissima problemi con me problemi con loro se fai incazzare me fai incazzare loro se io ti querelo ti stanno si stanno muovendo loro ecco che cosa sta che cosa sta avvenendo che cosa sta avvenendo perché lì sta andando tutto questo questo ragionare questo massacrare e poi la grande esca se tu reagisci allora sei tu il fomentatore di odio se tu hai diffamato per anni e anni le ambulanze del mare chiamando le crociere se tu hai diffamato per anni il giorno in cui l'intera comunità il giorno in cui viene ucciso un carabiniere qui a Roma il commento fu ancora non si sapeva che erano stati due ragazzi americani il commento della Meloni fu probabilmente due animali magrebini questo fu il suo commento ancora presente e non cancellato loro non rispondono di queste parole a nessuno incredibile io quando io e non solo io quando si reagisce risponde con posizione radicale a questo odio si viene chiamati a giudizio questo è anche il compito dell'intellettuale cioè e al tanni in questo mio maestro sono fierissimo di essere suo amico cioè paghi col corpo non è semplicemente una posizione così una firma ci metti il corpo cioè decidi di essere non soltanto un raccontatore ma testimone guardi decidi paghi paghi prendi posizione cioè perdi lettori perdi soldi perdi serenità perdi sonno perdi sicurezza perdi sicurezza perdi peso perdi sonno perdi amici anche perché si stancano di difenderti a un certo punto perdi un sacco di cose questa cosa del corpo te la voglio chiedere perché tu prima hai detto il fumetto mi dà credibilità in realtà la tua credibilità l'hai costruita con le tue parole l'hai costruita con la tua testimonianza perché le parole sono potenti le parole sono potentissime e forse non c'è noi ci abbiamo riflettuto molto prima di fare questo incontro perché privatamente abbiamo parlato un sacco di volte però pubblicamente non abbiamo mai affrontato una conversazione e anche per questa conversazione non ci siamo preparati nel senso che non c'è una scaletta di domande c'era questo tema vago la questione del corpo Roberto è centrale tu giustamente dicevi ci sono scrittori che dicono per me parlano i libri io da cattolica vecchia generazione mi ricordo che il verbo si è fatto carne non carta nel senso che la bidimensionalità delle parole acquista autorevolezza nella misura in cui arriva la terza dimensione che è quella del corpo di chi le ha scritte e questa cosa qua segna la differenza tra lo scrittore e l'intellettuale tra lo scrittore e il testimone e tu l'hai detto molto bene adesso ma secondo me va ragionato di più nel senso che il corpo è uno spazio politico perché il corpo è un bersaglio le parole sono parole e possono essere discusse puoi portarlo in tribunale per dire tu hai detto questo mi hai offeso mi hai calunniato tutti i meccanismi che conosciamo non vi faccio l'elenco dei politici che hanno minacciato e correlato me ma non è quello il punto il punto è il corpo tu viaggi con il corpo di 4 5 persone che ti segue sempre per proteggere il tuo e questo è un dato politico perché limita la tua libertà perché ti simbolizza in un modo che rende la tua vita invivibile tu sei sempre il cosplayer di Roberto Saviano ti alzi la mattina e se ti manca uno yogurt dal frigo non vai al supermercato a comprarlo è il gesto più semplice tu una volta mi hai detto la cosa che più desidero al mondo è decidere all'ultimo momento di andare a mangiare una frittura al mare e non lo possiamo fare allora questa cosa qua non è una cosa da nulla cioè la limitazione del corpo nel momento storico in cui viviamo in cui ci sembra che tutto sia smaterializzato smaterializzabile non è così un posto di blocco in cui ti devono controllare i documenti e invece ti chiedono ragione delle tue opinioni politiche ha a che fare col tuo corpo ed è il tuo corpo che reagisce poi mi piace questa copertina è in cui è tante è un leviatano cioè sei a metà metà fuori e a metà dentro da quest'acqua che è un sacco di cose dal punto di vista metaforico è il corpo è il corpo e questa questione del corpo te ne accorgi anche nei discorsi di odio nel senso che te ne accorgi di più se sei femmina devo dire la verità perché il corpo di una donna che prende una posizione pubblica è un bersaglio naturale da parte di chi che sia cioè da parte di chi progettualmente sa che colpirti nel corpo vuol dire farti male da parte anche di chi ha preso questo linguaggio in vent'anni di pedagogia tossica che mira il corpo delle persone e soprattutto per delegittimarle evidentemente ecco su questa cosa del corpo dopo due anni in cui non ci siamo potuti avvicinare gli uni agli altri in cui abbiamo paura del respiro di chi ci sta accanto sentiamo un colpo di tosse e vorremmo il teletrasporto cioè tutte queste situazioni in cui il corpo degli altri è diventato pericoloso per noi e l'idea che viviamo in un tempo in cui esserci con la carne fa ancora paura a chi ha un potere ecco io di questo sono contenta nel senso che mi rendo conto che esserci col corpo è una cosa che può essere potente e il corpo ovviamente paga perché il corpo che si mette in gioco somatizza tutto quello che accade se tu ne fai un campo di battaglia i campi di battaglia non sono posti piacevoli non è il centro storico il venerdì pomeriggio quando vai a fare shopping non ho una vera domanda su questo ho più una riflessione sul fatto che dobbiamo stare attenti al linguaggio perché ci siamo tutti dentro questo campo di battaglia e ogni volta che ci dimentichiamo che ci sono in gioco i corpi delle persone cioè ci dimentichiamo la loro tridimensionalità la loro concretezza la loro umanità quello che può essere ferito stiamo dentro il gioco di chi vogliamo diciamo disinnescare questi vent'anni hanno cambiato molte cose in ordine anche al linguaggio comune non necessariamente a quello che mira a ottenere un consenso politico o a generare delle paure sociali siamo tutti diseducati a rispettare la tridimensionalità dell'altro prima parlavamo di Tolkien e di Ende e dell'abuso che la destra ha fatto di tutto l'immaginario del fantastico la figura di Frodo per me è spettacolare da questo punto di vista perché Frodo quando finisce la sua avventura e torna a Obiville è vivo e ha vinto tecnicamente nel senso che la sua battaglia Sauron diciamo l'ha vinta l'anello è distrutto però Frodo non è più quello che è partito perché ha preso a un certo punto la coltellazione di un coltello simbolico malefico totale che lo ha toccato fino all'osso e lì in quell'osso lui continua a sentire un freddo che la sua terra d'origine non riesce più a colmare le sue relazioni elementari tra gli altri Hobbit non riescono più a riscaldare e alla fine la malinconia che parte da quella ferita lo intossica talmente che lui decide di andare con gli elfi verso i porti grigi che sono una metafora della morte ora come sia possibile che questa cosa sia diventata patrimonio della destra lo sa solo Dio non si capisce perché evidentemente Frodo è una figura cristologica e non lo dico perché sono cristiana lo dico perché era cristiano Tolkien era cattolico e quindi sapeva parlando di ferite del corpo di cosa stava parlando di quale immaginario stava andando a prendere ecco questa cosa qua sul corpo ripeto non ho una domanda ma è una riflessione che faccio continuamente uno perché sono stanca di vomitare sono stanca di non dormire sono stanca di pensare che tu non dormi sono stanca di pensare sono stanca che ci scriviamo alle 4 del mattino cioè capisci che non va bene questa cosa e per cui mi dico esiste un modo di essere testimoni e di rompere i coglioni al potere che non passi necessariamente per il sentirsi male è una domanda che ho magari la risposta è no il prezzo è quello e va pagato in realtà non lo so e questa modalità diciamo che abbiamo anche di scriverci di notte è stranissima perché non è che ci diciamo io in genere scrivo e pronuncio solo il suo nome e mica l'ha intuito probabilmente perché ha seguito quello che sta succedendo però tutto nulla sfugge all'occhio vigile di questo comando no è un fatto quello che succede a te è quello che succede a me tu vigili me è così che funziona è un modo come dire fine non è che ci dobbiamo dire anche perché poi attenzione questo è un dettaglio che è interessante condividere privato ma interessante condividere e cioè anzi intimo perché il privato è intimo quando succede qualcosa a qualcuno se tu gli scrivi ho visto mi dispiace la risposta è doppia la prima a cazzo è arrivata persino a te questa notizia e poi dopo grazie per la solidarietà questo è interessante perché sappiate che è così cioè ti buttano merda pensi che sei una merda circoscritta e spesso lo è e spesso lo è per fortuna quando tu stai dicendo all'altra persona ti sono vicino oppure che è sta storia che è la frase peggiore da dire perché è quasi interrogativa cioè c'è qualcosa di vero che è sta storia c'è qualcosa di vero in realtà stai dicendo a quella persona la merda sta galoppando quindi spesso il silenzio è garanzia che la merda non è arrivata così lontana il corpo è veramente il centro di tutto cioè arrivi anche quando sei così esposto a non fidarti più cioè chiunque mi avvicini chiunque non sarà mai libero del mio sospetto che c'è un interesse di qualunque tipo anche un interesse di fantasia cioè di cose che io non potrò mai dare però c'è sempre vuoi pubblicare vuoi una prefazione vuoi fregarmi delle informazioni vuoi dire che mi hai avvicinato vuoi essere aiutato aiutata vuoi una raccomandazione o semplicemente niente una cosa ancora più banale vuoi che io venga a presentare qualcosa a scuola tua all'università c'è sempre anche una cosa che è legittimo chiedere pretendere anche una cosa persino bella ma ti genera il sospetto cosa vuoi dal mio corpo perché non sei più abituato a vivere il tuo corpo in libertà non sei più abituato a vivere il tuo corpo che può essere desiderato senza interesse senza voglia di fregarti voluto bene senza interesse e semplicemente per il desiderio di passare del tempo assieme criticato senza interesse semplicemente perché magari hai fatto una cazzata e che quindi quella critica non è propedeutica a una delegittimazione mediatica questa roba è un incubo ecco perché troverete pochissime persone che prendono posizione dagli attori agli artisti agli sportivi perché il prezzo che si paga è che smetti sempre di più già la mediaticità ti spinge a questo ma il prezzo che si paga è che smetti di avere possibilità di vivere come vivevi prima cioè dentro una dinamica che consideravi di sicurezza mediamente di sicurezza potevi non darti male le cose potevi ammalarti o essere criticato potevi lasciarti innamorarti soffrire ma era tutto dentro una dinamica che non significava se io ti dico una cosa domani finisce sui giornali se ti dico una cosa domani la riporti la modifichi la manipoli oppure mi hai detto quella cosa perché mi stai registrando mi stai è un incubo un incubo vero che porta infatti spessissimo le persone a non prendere posizione a stare zitte a essere diciamo transciana nel senso che lasciano correre perché è molto meglio che entrare in diatriba o ad avere dei ruoli cioè a un certo punto tu senti che se fai come dire il cinico l'accidioso sul palco della mediaticità ti stai difendendo perché nel momento in cui tu parli di bene o di giustizia l'obiettivo è fregarti ma se tu dici fanno tutti schifo io sono peggio di voi si mette tutta una chiava che rubate tutti chi ti attacca chi ti attacca anzi a quel punto ti stai proteggendo e rendere e dare spazio a tutto ciò come solidarietà come come bontà tutto ciò che non è che tu rappresenti tu puoi non essere buono spesso inciampare spesso non essere solidale spesso eppure difendere la solidarietà e basta basta poterti delegittimare per delegittimare invece un atto così politicamente forte e necessario e quindi pensate che adesso in piazza qui a Roma c'è la manifestazione che si chiama Atreio ma Atreio non è della destra Michael Hande lo dicevamo prima era un antifascista a 15 anni viene costretto ad arruolarsi nella gioventù hitleriana e diserta con la bicicletta racconta nei suoi scritti biografici vede i ragazzi della sua età impiccati con la scritta mi hanno arrestato i cani da catena che erano così definiti i soldati della Wehrmacht con l'obiettivo di raccogliere disertori e lui quell'immagine la metterà in Mork chi ama la storia infinita come me se lo ricorda bene Mork ma è incredibile come è stato possibile che questi abbiano preso un ragazzino figlio del popolo pelle verde che significa in lingua pelle verde Atreiu allevato da tutti non ha il padre e la madre tradizionale non ha la famiglia classica non ha niente è allevato da una comunità da chi di volta in volta se ne occupa e gli vuole bene il fortuna drago Fulcor nel libro Fulcor nel film sapete mentre c'è un sacco di doti meravigliose lo ricorderete perché vola dormendo poi si ciba d'aria non deve mai mangiare e l'acqua gli è immortale anche se poi ricorderete che si tufferà per il bene di Atreiu rischiando la vita ma ha una caratteristica splendida a un certo punto parla con i serpenti gli alleati del nulla che sta distruggendo fantasia e Atreiu è stupito anzi quasi insospettito come tu parli con i nemici e Fulcor gli dice no non parlo ma il linguaggio della gioia universale quando i serpenti sono gioiosi e io li capisco perché qualsiasi specie nel momento in cui gioisce si comprende ma cosa c'entra tutto perché gli è stata data la possibilità di chiamare una manifestazione così Atreiu Atreiu dobbiamo toglierlo a questi dobbiamo fare in qualche modo difendere il povero Atreiu come fa Bastiano perché cioè tutto quello che è dentro la storia infinita tutti i popoli che si devono alleare contro il nulla popoli che non parlano lingue comprensibili tra loro ma hanno una lingua universale fantasico ma è stupendo tutto il racconto allora mi chiedo a volte me lo sono posto cosa ci vede la destra radicale nella storia infinita e in Atreiu la risposta già la immagino la risposta colta la resistenza dell'ideale al nulla del materialismo cioè quindi già la capisco ma bene ci sta ci sta pure questo ma nulla appunto della resistenza che fa Atreiu ha a che fare col vostro modo di vedere il mondo e di raccontare la difesa è sempre legittima affondare le navi che salvano vite considerare invasori e nemici tutti coloro che sbarcano disperati portarti a processo se dici che davanti a un corpo morto di bambino affondare i barconi è da bastardi per esempio tu dici affondare i barconi è un'espressione politica dire bastardi no devi andare in tribunale a risponderne hai detto una cosa bellissima e su questo io credo che potremmo anche fare l'ultimo passaggio del ragionamento prima di chiudere questo incontro che vorrei non finisse mai la questione dei popoli che si riconoscono delle specie che si riconoscono nella gioia parlando di vittime di sopravvivenza eccetera parlando di corpo che patisce non abbiamo trasmesso molta gioia in realtà abbiamo discusso anche di questo io e Roby anche di recente io sono una persona estremamente ironica e non riesco cioè il mio strumento di difesa principale l'ironia il sarcasmo il senso e l'umorismo non sono tutte apparentate il sarcasmo è il sorriso della bestia che ti fa vedere i denti perché ti devi spaventare quando uno fa quella risata lì non è perché si diverte perché ti vuole male gli animali lo sanno le persone se lo dimenticano però è uno strumento una volta l'ho fatto cantare in radio e lui era l'ho trovato ancora online da qualche parte un testo rivisto su quello che non ho di Fabrizio De Andrè e gli ho detto devi ridere di più dobbiamo ridere di più ed è vero che la nostra vita è cambiata la tua molto molto più della mia naturalmente ma è condizionata dal tipo di minacce dal tipo di pressione dalle shitstorm dall'odio dal fatto di essere stati identificati come bersagli politici pur non avendo un partito né facendone parte per cui per un sacco di tempo siamo stati e per molti versi siamo ancora assieme ad altri l'opposizione non molti altri va detto però questa questione qua alla fine finisce per farci apparire come figure tristi con cui nessuno vorrebbe andare a cena e questo mi dispiace perché invece siamo due persone divertenti che vogliono cioè io alla fine di tutta questa cosa vorrei dire a quelli che continuano a vederci come un bersaglio la vita me l'hai condizionata ma non me l'hai demolita cioè io di te rido ancora per cui sulle storie di Instagram piglio per il culo e non me ne frega niente e mi dicono eh ma si abbassa il tuo profilo autoriale sti cazzi cioè a me la risata mi salva quando sono nel pieno della shitstorm e c'ho i leghisti addosso cioè io devo postare la foto di un panda che si gratta contro un palo e dire questa sono io mentre mi fate la shitstorm che poi magari non è vero sto male però è uno strumento cioè l'ironia mi salva è un lavacro è un ribattesimo che mi ricorda guarda che alla fine tutta questa roba qua la fai per la gioia non la fai per cioè quando cercano di dirti voi fate discorsi d'odio è brutto perché ti getta addosso una cappa nera per cui tu dici ah la murcia è sempre incarognita Saviano è sempre col dito puntato così è no guarda ti posso assicurare che non è così e che non possiamo pubblicare le conversazioni e le schermate per ora ma se potessimo è che non possiamo ma se potessimo è così tu hai ragione comunque su questo faccio una battuta vi informo io vi ho detto prima che Tolkien sempre per restare nei grandi del fantasy era cattolico non era solo cattolico quando è morto è morto in odore di santità per cui c'è è aperta la causa di beatificazione di Tolkien sapete che dopo il primo stadio che è quello appunto della venerabilità bisogna passare a beato e poi a santo per fare questo di solito lo scatto richiede un miracolo e il miracolo di Tolkien non si trova nessuno è mai guarito nel nome di Tolkien diciamo la foglia di Atlas non funziona fuori dal libro nessuno è mai come dire non ci sono miracoli concreti io mi sento di dire che un miracolo Tolkien l'ha fatto ha fatto leggere i fasci questa cosa qua secondo me portiamo avanti il secondo stadio del processo perché come dire gli estremi della beatificazione ci sono secondo me è vero non ci avevo mai pensato sperando che abbiano letto davvero magari si sono visti su a tre io sono certa di no però secondo me Tolkien un po' sì comunque è vero spessissimo l'energia e la risorsa dell'ironia mi manca perché perché in qualche modo è un talento che c'hai dentro Michele in questa è abilissima anche nel ribaltare velocemente cioè avere il tempo dell'eroina dell'ironia della battuta è fondamentale per difendersi anche e per impedire che siano loro ancora una volta torna il loro a disegnare la tua vita il tuo aspetto l'idea che il mondo assù di noi non siamo noi comprenderlo non è facile e e c'è tanto a questo fumetto se vi capiterà di metterci il naso dentro vedrete che è anche il racconto del tentativo fallito per ora di riprendersi il corpo che Asaf mi disegna molto bene tra l'altro su mia indicazione come dentro una corazza cioè anche quando mi si tocca io ho sempre una strana sensazione come se non si stesse toccando meglio ritengo me solo ciò che c'è dentro gli occhi cioè gli occhi dovresti mettermi un dito nell'occhio per toccarmi il resto la mia testa la mia carne le mie spalle è come se non fossi io ma questo è tipico di chi vive sempre circondato da persone che lo difendono e circondato da persone che lo attaccano e attaccano il tuo corpo quindi per esempio l'ansia che non ti fa andare al mare perché il mare è legittimo per me andare al mare ma l'ansia di essere fotografato la polemica che stai andando a mare con i soldi della scorta le minchiate che raccontano ovviamente su questo e ti fa dismettere cioè la fatica di dover comunque intercettare una valanga di accuse e di minchiate ti fa dismettere la possibilità anche di fare un gesto semplice per te di cura di vita quotidiana normale e inizi a vivere davvero sempre vestito da Superman e i supereroi vi ricorderete questo è un discorso che fa Bill in Kill Bill 2 se non sbaglio lui sta raccontando a Uma Bill dei suoi protagonisti supereroi preferiti e dice Spider-Man per essere Spider-Man deve mettersi la tuta Batman allo stesso modo Superman no Superman nasce Superman il mantello era esattamente il panno in cui è stato trovato dai genitori umani quindi in realtà che cosa succede lui dice Superman è il più malinconico di tutti i supereroi perché non potrà mai non essere quello che è non è una tuta quella che si mette anzi è il contrario è Clark Kent la sua tuta allora questo dramma significa semplicemente che a un certo punto quando coincidi con la tua scelta quando il tuo corpo si mette in gioco a tal punto che le parole che dici devi sempre ponderarle devi sempre valutare nulla ti viene perdonato tutto devi rispondere ma attenzione non rispondere di te quello è facile rispondere della tua battaglia cioè l'attacco che viene fatto a noi prima Michele ha detto siamo opposizione in questo paese vi assicuro che è così e non succede in Francia in Germania non succede cioè l'intellettuale che anche ha una posizione di provocazione radicale di sfida non è considerato un ruolo all'interno della dinamica parlamentare politico in senso lato cioè ideale teorico invece che cosa succede loro hanno necessità di attaccare noi perché l'obiettivo è delegittimare le loro idee e siccome spessissimo la loro controparte politica non ha idee quindi che cosa attacchi chi attacchi allora attacchi chi rappresenta idee ma noi non amendo partito non abbiamo possibilità di gestire le spese il partito ha il potere in questo non ha possibilità di assumere di avere avvocati quantità enormi di avvocati la melone difesa da un parlamentare suo non hai un potere di sistema l'unico potere che hai deriva dalle tue parole nel momento in cui riescono a toglierti quelle tu non hai più niente ma è così e questo per cui non è non è come attaccare un politico che ha potere negazione come dire di negoziazione ma vera quindi Gasparri che mi definì pregiudicato e io lo denunciai è stato poi bloccato la mia guerra non è andata avanti perché lui ha avuto l'immunità parlamentare che ha fatto valere quindi Gasparri si è protetto per esempio lui può mentire per esempio ne dico l'ultima guardate che ecco perché quando vi capita e provate quando incontrate uno scrittore una scrittrice c'è un attore uno sportivo valutarlo anche dalle posizioni che ha preso conta conta moltissimo su di me ha un enorme effetto voglio chiudere appunto con una riflessione che riguarda Matt Matt ha fatto una valanga di anni in carcere è stato condato all'ergastolo al primo grado all'ergastolo perché accusato da Erdogan di aver mandato dei messaggi subliminali giuro è uno scherzo subliminali in televisione per spingere il popolo turco ad appoggiare il golpe questa è stata l'accusa lui e suo fratello romanziere roba che minority report proprio ma come può essere davvero si fa sette anni poi c'è la revisione del processo lo liberano adesso è libero da qualche settimana con la speranza che però lui non realizzerà la speranza del governo dell'esilio il governo spera che lui vada in esilio cioè che tolga il corpo dalla battaglia Ametaltan è davvero un grande scrittore e in un suo libro che racconta della sua detenzione credo che si intitoli non rivedrò mai più il mondo perché lo scrive quando riceve la condanna all'ergastolo lui va come prima Michele ricordava in carcere risorridendo perché suo padre aveva fatto così quando era stato arrestato sorridendo togli la possibilità di intimidazione gliela stai togliendo se sorridi al ladro gli togli il bottino e ci dare modugno quindi lui sorride verso i figli come il padre aveva fatto con lui il suo fratello entra in questo carcere e racconta ed è qui che volevo arrivare qualcuno l'avrà già ascoltata mi perdonerà perché spesso tendo a raccontare questa immagine che riporta il TAN condivide la cella con un ragazzo cosa durissima in carcere anche in carcere in Italia un carcerato tende a dover dividere la cella con un coetaneo esigenze come dire dalle più semplici cioè un giovane mangia di più e quindi tu vedi che è affamato gli passi l'autopagnotta gli dai un po' di riso quindi dividi il tuo a cose che in genere sono indicibili ma le dico per raccontare la situazione del carcere cioè la masturbazione un giovane tende a masturbarsi molte volte al giorno e quindi tu hai un compagno o compagni giovani che lo fanno e tu hai un'altra età a metta più di 60 anni queste cose portano a metta a non essere felicissimo di dividere la cella con un ragazzo ma ovviamente rispetta la cosa non può fare altrimenti il ragazzo inizia anche a essere molto teso sta per essere interrogato è un professore e ha esercitato la sua attività chiudiamo e ha esercitato la sua attività in un villaggio kurdo gli dicono denuncia un po' di persone e sei fuori e lui si confessa ad Altan e dice che faccio denuncio persone che non conosco il preside di questa scuola denuncio il mio vicino di casa kurdo ma chi li ha mai visti quando li ho visti sono persone che mi hanno sempre accolto non mi è sembrato fossero guerriglieri dovrei mentire a mette ed altri in questa cella non hanno la forza di dire non farlo quelli ti massacrano di botte sono fermi e dicono ma fai quello che ti senti sì come dire lo sappiamo che sono persone innocenti qua funziona così vai resisti vedi quello che puoi fare cioè cercano di confortarlo non dicendogli denunciali né non farlo semplicemente dicendoti non è la tua volontà il ragazzo passa la notte insonne piangendo quindi non facendo dormire neanche i compagni di cella il giorno dopo viene interrogato dopo una mattinata di interrogatorio torna in cella un po' pesto no non messo malissimo ma un dente rotto un occhio gonfio il naso che sta colando un po' di sangue messo male e lui guarda Altan e dice non l'ho denunciato mi faccio il carcere mi ha dato un po' di ceffoni ma non me la sono sentita e Altan fa questa riflessione dice in quel momento capisco l'alchimia tu leggi e dici che c'entra dice ecco il gioco della pietra filosofale eccolo lì la lega minore il bronzo a trasformare in oro è la scelta è quello il trasformarsi il saper trasformare il bronzo in oro è questo puoi essere di qualsiasi lega ma se scegli se proteggi ciò che sei è lì che ti trasformi in oro ecco dice Altan questo ragazzo mi ha dato la prova finale nel momento in cui scegli diventi oro tutto qua grazie siamo ancora vivi e non abbiamo intenzioni diverse grazie grazie Michela e grazie a tutti purtroppo non potrò firmare le copie per via del covid il fumetto è lo stand bow e grazie per tutto grazie a tutti 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 Grazie.